Un decimo delle risorse sanziate nel patto per la Sicilia, firmato ad Agrigento sabato scorso dal Premier Matteo Renzi, sarà destinato a finanziare progetti infrastrutturali a Gela. Nel dettaglio si tratta di più di 60 interventi previsti, 670 milioni di euro per il porto, 121 milioni per l'itinerario nord-sud della Gela Camastra, 251 milioni per la Siracusa Gela, 3 milioni per il museo, 10 milioni per la riqualificazione urbana e 20 milioni per le dighe. Il Governo Renzi, con fatti e provvedimenti concreti, sta dimostrando di vera cuore le sorti del Mezzogiorno, a differenza di altri governi che hanno toccato questo tema solamente in campagna elettorale. E quanto sostiene il PD di Gela? Apprezziamo e ci complimentiamo con il Governo nazionale per l'attenzione mostrata per il Mezzogiorno, per la Sicilia e in particolare per Gela. Un decimo delle risorse sono destinate alla nostra città e quindi una grande opportunità di sviluppo in un territorio che sta soffrendo tantissimo a seguito della chiusura del petrochimico. Quindi queste risorse potranno portare un'apertura dei cantieri e un abboccato di ossigeno alla nostra economia. E queste risorse quanto arriveranno? Ma chiaramente c'è tutto un iter. Infatti invitiamo l'amministrazione comunale ad attivare un ufficio speciale, tecnico e amministrativo che vada a monitorare i progetti e rimuovere eventuali criticità. Gli enti locali devono fare la loro parte. L'amministrazione messinese ritengo che deve sfruttare queste risorse. Il mio auspicio è che l'amministrazione invece di attaccare in modo strumentale sistematicamente il PD, invece ringrazia il Governo nazionale e il Premier Renzi per l'attenzione mostrata nei confronti del nostro territorio. Anche perché loro sono 15 mesi che governano questa città e devono iniziare a spiegare ai cittadini cosa stanno facendo per creare posti di lavoro nel nostro territorio. Quello che dice sostanzialmente è che non bisogna avere nessun colore politico quando si parla di occupazione e di risorse importanti. Ma guardate c'è una polemica sui media di una foto fatta da due sindaci grillini, Portembeduco e Favaro, con tutti gli altri sindaci, il Premier Renzi e il Governatore della Sicilia Crocetta. Chiaramente i rapporti istituzionali vanno tenuti e condannosi. Ma come condanno io penso che un'opinione diffusa è il fatto che un sindaco viene invitato in una manifestazione, un incontro per la firma di un patto per il Sud, per la Sicilia, che prevede per Gela circa 500 milioni di euro e il sindaco non va a questa manifestazione. E' una cosa da condannare perché una cosa sono le battaglie, un'altra cosa invece mantenendo un rapporto istituzionale con la presenza della regione è il Governo nazionale. Parliamo del sindaco messinese? Chiaramente che parliamo del sindaco messinese. E' stato lui che si è vandato di questa cosa, ma assolutamente non c'è niente di che vandarsi, anche perché se a Gela nei prossimi anni si apriranno dei candieri, questo sarà grazie all'attenzione che il Governo regionale e nazionale hanno mostrato nei confronti della nostra città. Grazie.